Regione Marche in arrivo una nuova ordinanza anti assembramento lotta al covid accordo raggiunto per premi a medici ed infermieri il comune di pesaro acquista 3.000 saturimetri per gli over 65 della città statue busti ecco la mappa cittadina dei più deteriorati buona serata questo è il telegiornale di martedì 17 novembre il nostro rossini news con tutte le notizie fresche di giornate allora questa sera apriamo parlando come sempre degli aggiornamenti riguardanti il coronavirus in modo particolare su questa ordinanza anti assembramento che arriverà nelle Marche infatti questo è stato annunciato proprio dal governatore Francesco Acquaroli a margine del consiglio regionale di oggi Acquaroli ha spiegato come non ritenga il passaggio da zona gialla a zona arancione il provvedimento più incisivo per frenare la crescita dei contagi allo studio c'è infatti un'ordinanza che non chiuderà vie o piazze ma ha fatto sapere Acquaroli impedirà ai cittadini di dirigersi nei luoghi in cui si creano folle tali da non consentire il distanziamento il presidente di regione l'ha definita un'ordinanza all'insegna del buonsenso sulla quale in queste ore c'è un tavolo di confronto in corso con sindacati e associazioni e proprio la regione Marche dopo mesi di dispute che hanno coinvolto sindacati e aziende ospedaliere ha raggiunto un accordo per i premi a medici e infermieri impegnati nella prima ondata della pandemia ma anche incentivi a sostegno dei turni attuali vediamo si pagano i premi arretrati si incentivano i futuri turni extra e questo il doppio accordo raggiunto che fa tornare il sereno fra regione Marche sindacati aziende ospedaliere medici e infermieri in una disputa durata mesi in merito ai premi agli eroi del covid quei medici e quegli infermieri calati anime corpo nella prima ondata della pandemia quegli stessi operatori sanitari che si stanno prodigando oggi per attenuare una nuova fase emergenziale delle strutture ospedaliere regista dell'accordo è stato l'assessore regionale alla sanità filippo salta martini che ha siglato un protocollo d'intesa fra le parti compresi i vertici dirigenziali delle quattro strutture ospedaliere Marche Nord torrette irca asur e le sigle sindacali coinvolte una conciliazione fra risorse governative e regionali che porta a uno stanziamento di circa 13 milioni di euro basato su due accordi innanzitutto vedono finalmente la luce i premi legati alla prima fase del covid fra marzo e maggio esteso dunque alle altre strutture regionali quanto Marche Nord aveva già deciso la scorsa settimana ovvero una una tantum di 615 euro lordi per le premialità di primavera il secondo accordo riguarda presente e futuro della seconda fase pandemica al personale infermieristico sanitario che sta già lavorando nei reparti covid spetteranno infatti 15 euro lordi aggiuntivi per ogni turno mentre saranno 40 euro in più per il personale medico cifre che si alzeranno ad incentivare prestazioni aggiuntive straordinarie a 50 euro lordi in più per ogni turno degli operatori del comparto e 80 euro lordi in più per ogni turno dei medici tutto questo mentre le ultime 24 ore hanno denotato una crescita di contagi da covid 19 nelle Marche che resta a livello di guardia 357 nuovi casi positivi su 1229 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi fra questi sono 68 i nuovi contagiati nella provincia di pesaro urbino mentre il dato di crescita più sostenuta in un solo giorno spetta alla provincia di macerata con 115 nuovi casi e rimaniamo ancora in tema sanità perché il comune di pesaro ha acquistato 3000 saturimetri che consegnerà alle famiglie pesaresi che hanno un over 65 in casa lo ha annunciato il sindaco matteo ricci spiegando come dal milione di euro utilizzato per i bonus spesa bonus bambini e bonus attività risulta un residuo di 40 mila euro che è stato reinvestito nell'acquisto di questi apparecchi che misurano il livello di ossigeno nel sangue diventando un importante strumento di prevenzione medica per le fasce di età avanzata nella città nei prossimi giorni verranno definiti criteri di distribuzione e a proposito dei bonus spesa e dei bonus bambini dopo la consegna dei voucher che è avvenuta appunto porta a porta ed è cominciata domenica scorsa con 300 volontari di quartiere oggi si è aggiunta la prima distribuzione degli adesivi che identificano i negozi e le attività che accetteranno questi bonus la prima consegna è stata effettuata dall'assessore alle attività economiche francesca frenquellucci gli adesivi andranno esposti in vetrina e saranno di colore giallo per chi accetta i bonus spesa e di colore blu per chi accetta i bonus bambini gli elenchi delle attività sono consultabili dal sito del comune di pesaro nel consiglio comunale di ieri è stato approvato il documento unico di programmazione con 18 voti favorevoli 9 contrari e 3 astenuti abbiamo quindi intervistato l'assessore al bilancio del comune di pesaro riccardo pozzi che ci illustra il valore di questa delibera il documento unico di programmazione il documento di pianificazione di programmazione più importante per lente per un ente per il comune di pesaro è stata anche un'occasione per rimettere in fila un po anche quelle che sono le previsioni le tempistiche anche dei prossimi documenti importanti infatti pesaro mantiene una virtuosità anche in quelle che sono le scadenze nel senso che saremo tra i pochissimi comuni che entro dicembre di quest'anno porterà in consiglio comunale il bilancio di previsione 2021 e questo documento è stata anche un'occasione per aprire un dibattito con i consiglieri su quelle che sono le linee guida nella stesura del bilancio futuro un bilancio che dovrà tenere conto inevitabilmente di quello che è un contesto socio economico particolare molto diverso rispetto a quello degli anni passati e che quindi dovrà avere un'attenzione importante maggiore rispetto a quella che il comune di pesaro ha sempre avuto per le tematiche sociali ma anche dovrà essere anche un bilancio che dovrà riuscire a fare una programmazione ripensare quella che è la città che verrà fuori nel dopo coronavirus ci saranno infatti anche delle risorse per le progettazioni metteremo tutti quei requisiti che si serviranno per cogliere l'opportunità che ci saranno sui recovery plan e su tutte le opportunità di investimento che ci saranno nell'immediato futuro quindi un bilancio che avrà un assetto importante sugli investimenti sui lavori pubblici e al tempo stesso una grande attenzione su quella che è la spesa corrente e il contenimento delle spese considerando però l'importanza del welfare e dei servizi educativi e sociali che per questa amministrazione sono un ferrolocchiello. E sul tavolo del Consiglio Comunale è finita anche un'interrogazione in merito allo stato di salute delle statue e dei monumenti cittadini. Il prossimo servizio quindi mostra come sia stata stilata una vera e propria mappatura dello stato di deterioramento delle opere scultore e cittadine e la possibilità di riqualificarle. Forse i leoni alati che da 68 anni sono di guardia al mare pesarese potrebbero tornare a ruggire di nuovo splendore. I manufatti in pietra realizzati da Leandro Ricci sulle panchine che attorniano la palla di pomodoro sono però solo alcune delle tante opere scultore in stato più o meno deteriorato sotto la lente di ingrandimento del comune. Una lente posta dal Consigliere Comunale di Prima Cepesaro Emanuele Gambini che con una interrogazione ha portato l'amministrazione ad una ricognizione e mappatura dello stato di salute di busti, lapidi e sculture storiche cittadine. Perché tra le altre meritevoli di un restauro sarebbero pure la statua di Sant'Andrea in Piazzale Doria, il busto di Terenzio Mamiani a due passi da Rocca Costanza e quello di Giulio Perticari agli Ortigiuli. È stata una interrogazione utile anche se un po' impegnativa ovviamente per i nostri uffici perché chiedeva una ricognizione dello stato dell'arte diciamo di tutti i vari monumenti, lapidi, busti, sculture, inteso quelle classiche monumenti, l'arte contemporanea su cui c'è un altro progetto e abbiamo proceduto in qualche settimana ad aggiornare e quindi è stato anche utile per questo uno studio, una mappatura, una ricognizione che in realtà già c'era ma abbiamo unito anche una classificazione rispetto ai vari stati di conservazione e quindi abbiamo visto dalle più deteriorate, più bisognose di cura, quelle che invece hanno avuto restauri più recenti o più clemenza da parte degli agenti atmosferici e meteorologici e quindi ora abbiamo anche una traccia di lavoro importante per programmare con regolarità nuovi restauri e anche prevederne magari un percorso di valorizzazione quindi una mappa e dei percorsi che si possano rendere più fruibili anche perché in questo momento diciamo c'è anche molta volontà, molta necessità dal punto di vista di riscoprire anche le bellezze o gli elementi storici di curiosità, di percorsi storici che abbiamo fruibili anche all'aperto e quindi può essere anche l'occasione di questa interrogazione e il lavoro conseguente che hanno fatto gli uffici del comune, della cultura e dei lavori pubblici appunto per un iter che possa diventare da una semplice segnalazione anche un vero e proprio percorso di valorizzazione della bellezza cittadina e della storia perché poi ovviamente lapidi, busti, protagonisti insomma dei secoli e dei decenni scorsi sono anche un importante punto di ripartenza per il racconto storico. Ed ora vediamo quali sono le notizie che ci arrivano dalla città della fortuna, parcheggi gratis a dicembre, ristoro della TOSAP per i commercianti del centro storico, aree verdi concesse alle società sportive che appunto sono state chiuse in questo ultimo DPCM, ecco queste sono alcune delle misure messe in campo dal comune di Fano per far fronte alla crisi delle attività. Ci spiega tutto meglio in questo servizio Simone Celli. Il commercio arranca, lo sport si è praticamente fermato. Tutta colpa, ancora una volta, del Covid-19 ma il comune di Fano prova a metterci una pezza. È infatti previsto il ristoro del pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, la cosiddetta TOSAP, per quelle attività che hanno già effettuato il versamento per marzo e aprile, ma che in quel periodo sono rimaste inattive. L'amministrazione sta anche valutando aiuti concreti a favore delle categorie che hanno subito dei significativi cali di fatturato. Intanto, per agevolare il commercio, soprattutto quello del centro, dall'8 al 26 dicembre tutti i parcheggi della città saranno completamente gratuiti. Noi non abbiamo avuto la fortuna, fra virgolette, perché è una parola in questo momento non consona, delle risorse a fondo perduto che sono state destinate ad alcuni territori che hanno avuto numeri altissimi di vittime. Noi, sotto questo aspetto, siamo stati fortemente colpiti ma non a quel livello. Per cui dobbiamo farci carico con risorse nostre. Stiamo destinando alcune di queste per andare incontro a quelle che in qualche modo hanno avuto perdite significative. Ci sono attività che pur rimanendo aperte hanno avuto perdite dall'80 al 90%. Verso queste faremo uno sforzo in base alle competenze, alle strumenti e alle capacità finanziarie che abbiamo, però anche questo è un segnale. Abbiamo anche deciso per il periodo di Natale, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze del centro, per stimolare anche le persone a venirci e la gratuità di tutti i parcheggi a stallo blu della città, del centro e periferia del centro. Mano tesa anche verso le società sportive, che previ a prenotazione potranno usufruire di ben 16 aree verdi e di altri spazi pubblici all'aperto per poter riprendere le attività nonostante i DPCM. Abbiamo autorizzato una delibera perché vogliamo concedere dello spazio gratuito a tutte quelle che sono le società sportive ma anche a liberi cittadini. Vogliamo mettere a disposizione delle aree pubbliche per fare appunto sport, visto che in questo momento proprio a livello nazionale lo sport è stato molto penalizzato e quindi non ci sono spazi fuori quelli regolamentati all'interno delle aree verdi degli impianti sportivi di nostra proprietà. Quindi abbiamo messo a disposizione grazie a questa delibera nuovi 16 aree che sono policentriche perché per ogni quartiere ne abbiamo individuata una e in queste aree si potrà appunto praticare sport non solo singoli cittadini ma anche tutte quelle che sono le società sportive. E rimaniamo a parlare di Fano perché è proprio la città di Fano che è stata esclusa purtroppo dalle 10 finaliste candidate a capitale italiana della cultura 2022. Ieri infatti è arrivata la pubblicazione ufficiale del Ministero per i beni e le attività culturali che nella top 10 ha scelto Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. Oggi 17 novembre ricorre il 77esimo anniversario della strada di Piazzale Innocenti, un luogo fra centro storico e zona mare di Pesaro che ha appreso questo nome proprio in seguito ad un drammatico episodio del 17 novembre 1943 in piena seconda guerra mondiale. Un luogo che all'epoca si chiamava Piazzale Spalato quando attorno alle 13 una granata lanciata da una postazione tedesca sul San Bartolo piombò su quell'angolo di città uccidendo 14 persone, quasi tutti bambini. Ha contrassegnato questo fatto una pagina nera della storia cittadina mai del tutto chiarita. Importante donazione da parte del Lions Club di Pergola Valcesano che oggi ha consegnato all'ospedale di Pergola 5 computer e 6 termometri digitali a infrarossi del valore complessivo di 4.000 euro. Una donazione nata dal desiderio del Club di contribuire al potenziamento degli strumenti tecnologici del presidio sanitario. E adesso arriviamo al momento dedicato alle vostre segnalazioni 370-366-7210. Questo è il numero al quale mandare tramite Whatsapp le vostre foto, i vostri video oppure i vostri messaggi di testo. In questo caso questa sera vi facciamo vedere delle foto che ci ha inviato Cinzia, una nostra telespettatrice, che si riferiscono al ponte della statale sul fiume Foglia in zona Soria. Le foto mostrano un pericoloso accumulo di legname e detriti che la telespettatrice ha più volte segnalato all'amministrazione comunale ma la rimozione non è ancora stata effettuata. E allora cercheremo di risolvere questa situazione grazie Cinzia per averci mandato le foto. Le stelle di Natale dell'AIL tornano nelle piazze per sostenere la ricerca e la cura delle leucemie. Marco Cadedu ne ha parlato con il nuovo presidente dell'AIL di Pesaro Massimo Sierra. C'è stato il consenso unanime da parte dei soci, c'è un nuovo consiglio che voglio pubblicamente ringraziare ma soprattutto vorrei ringraziare anticipatamente per il grande sforzo, per il grande lavoro che faranno tutti i soci e tutti i collaboratori nelle varie piazze della provincia e della città, soprattutto per quanto riguarda l'operazione delle stelle di Natale che quest'anno ha visto questo grosso problema del Covid sarà un pochettino più ristretta ma noi ci auguriamo e siamo fiduciosi che ci sia un ottimo risultato da parte di tutti. Quindi un grande, grande, grande grazie alla famiglia AIL, a tutti i collaboratori, a tutti i soci che nei prossimi 20 giorni si daranno da fare per sostenere questa grande famiglia che è appunto l'AIL che fa parte dell'AIL nazionale chiaramente e speriamo che qualcuno da lassù ci aiuti e ci dia una spintarella ad aiutare queste persone che sono meno fortunate di noi, di fatti noi oggi siamo qui nel villaggio AIL, nella casa AIL, una cosa stupenda, ce ne sono pochi in Italia e credo che sia un grande fiore all'occhiello di questa associazione pesarese. Massimo, vuoi descrivere questa operazione stelle di Natale? Come avverrà alle giornate in cui sarete impegnati? Saremo impegnati dal 5 all'8 dicembre per quanto riguarda le piazze. È una cosa semplicissima, venderemo delle stelle di Natale e delle stelle di cioccolato con una donazione. Vendere è una parola un po' non andrebbe bene, è una donazione per la quale si riceve questa stella di Natale o queste stelle di cioccolato. Avremo anche un punto vendita, se vogliamo chiamarlo così davanti alla nostra sede in Via Mameli, sarà non stop quindi per agevolare e quest'anno per la prima volta siamo presenti anche all'interno della grande distribuzione dell'Ipercop, anche se solo per un giorno, però è stato un grosso passo ed hanno accettato di gran cuore questa nostra proposta. E allora qui state queste stelle dell'AIL, intanto vi vado ad annunciare la prima serata di questa sera perché alle 21.15 andremo a conoscere la premiazione che è stata fatta all'Istituto Bramante Genga di questa classe, una classe che si è impegnata a progettare l'accessibilità in due zone di Pesaro, la piazza centrale, quindi piazza del popolo e piazzale della Libertà per favorire appunto l'accesso ai disabili. E chiaramente questi ragazzi sono stati premiati e questa sera vedremo la premiazione alle 21.15. E poi vi ricordo che a partire da giovedì alle ore 19 arriva un nuovo programma su Rossini TV si chiama Generazione Silver in collaborazione con l'associazione 50 e più della Confcommercio Pesaro Urbino, un programma che sarà veramente un piccolo notiziario di informazioni utili alla terza età. Vi faccio vedere subito il promo. Tutti giovedì alle ore 19 su Rossini TV, Generazione Silver, una trasmissione ideata e prodotta da 50 e più Pesaro Urbino, l'associazione nata da Confcommercio che vuole valorizzare e sviluppare il ruolo degli over 50 nella nostra società. Il programma comprenderà notizie dal mondo dei senior, la rubrica Dottore Midica, a cura del Dottor Schembri, nutrizionista clinico, incontri con personaggi noti e meno noti della provincia e poi interessanti interventi a cura dei nostri esperti e nasco su temi di rilevanza sindacale e fiscale. Vi aspettiamo il giovedì alle ore 19 e sul sito rossinitv.it E allora non perdetevi la prima puntata di giovedì alle ore 19. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera. Chiaramente l'appuntamento è per domani alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa. Vi ricordo però che se vi svegliate più tardi la replica sarà alle 8.30 e anche alle 9.30. Buona serata.